Massimo 600 euro al mese per la durata di un anno. Ha una platea complessiva di 20.000 famiglie pugliesi che non raggiungono i 3.000 euro di Isee. Una scheda sintetica per così dire del reddito di dignità alias RED che arriva all'esame dell'aula del Consiglio regionale pugliese. Una carta su cui Michele Emiliano scommette molto, tanto da voler anticipare con questa mossa le misure analoghe allo studio del governo Renzi. I numeri per l'approvazione in aula ci sono e la maggioranza è dichiaratamente ottimista nei confronti di un provvedimento che nelle intenzioni dovrebbe andare incontro alle esigenze dei tanti vecchi e nuovi poveri. È un provvedimento che potrà avere la sua efficacia se il regolamento farà in modo che venga attuato in modo corretto sui territori. Quindi attraverso una sinergia con i soggetti che poi saranno abilitati pubblici o privati a innanzitutto favorire l'incrocio fra le imprese e i beneficiari e poi a fare sì che questo incrocio avvenga e che la misura venga concretamente attuata. È una sfida importante, ma l'impegno inizia oggi, cioè dal momento successivo all'approvazione della legge, perché in linea di principio siamo tutti d'accordo sul fatto che il welfare debba avere una filosofia diversa rispetto alla semplice erogazione di contributi a pioggia che non hanno mai messo in primo piano l'aspetto umano e la dignità delle persone. Contrari marcatamente al testo del Red varato dalla Commissione, i consiglieri di conservatorie riformisti che sottolineano come manchi un riferimento al reinserimento lavorativo di chi beneficerà del reddito di dignità. Se un soggetto assorbe dalla collettività un beneficio economico, questo soggetto deve rendere a quella collettività un corrispondente di monteure di lavoro da utilizzarsi da parte di comuni o altri enti pubblici in lavori di utilità collettiva, lavori che facciano sentire la persona che riceve il beneficio economico utile alla collettività, ma anche sano, sereno e in una posizione di valorizzazione della propria personalità, della propria creatività e di tutte le potenzialità che l'animo umano ha dentro.